E allora breve errore come diceva Emanuele Cardona in curva per il favorito Bulgari Griff dopo una falsa partenza però invece promettente forse rallentato un po' bruscamente perché aveva davanti Ben Urcigi questo potrebbe averlo indotto a quel breve errore comunque rimane il favorito chiaro anche se la quota è improvvisamente risalita sul campo dall'85% al 110% ma ormai sono agli ordini dello starter di questo premio Dream with me condizionata per 5 e 6 anni 11 al via dopo ritiro il numero 9 Brunelleschi BKS la prima fila l'1 Bulgari Griff il 2 Byron Staff il 3 Cevalotto il 4 Cherry Clemare il 5 Ben Urcigi il 6 Clio del Circeo il 7 Bassu ZS seconda fila 8 Candy Febbi 10 Carmen Fè 11 Candelario e 12 Colorado B 150 metri allo stacco della macchina al centro dello schieramento emerge chiaramente ancor prima dello stacco Ben Urcigi va a condurre nei confronti di Bulgari Griff che rientra a Cherry Clemar a largo dalla seconda fila partito molto forte Candelario che punta subito su Ben Urcigi dopo il lancio in 14 e 2 in curva c'è l'errore di Cherry Clemar mentre Candelario va deciso su Ben Urcigi che sembra intenzionato a cederli l'iniziativa e allora con partenza volante dall'11 e con la guida da catch di Lucio Becchetti Candelario leader dopo mezzo giro davanti a Ben Urcigi poi il favorito Bulgari Griff quindi la quarta posizione per Candy Febbi che capeggia il gruppo avendo all'esterno Byron Staff poi ancora Bassu ZS Clio del Circeo Cevalotto e gli altri metà gara di Candelario in un veloce molto veloce per la categoria 59 scarso ha spostato dalla terza posizione Bulgari Griff andando al Salchi di Ben Urcigi ma il ritmo imposto dal leader non consente a Bulgari Griff di migliorare ulteriormente perché il primo chilometro è andato via velocissimo ora tra l'altro i cavalli hanno il vento contro sulla retta di fronte Candelario rimane in vantaggio Bulgari Griff faticosamente affianca Ben Urcigi si avvicina in quarta posizione e recupera Candy Febbi davanti a Bassu ZS poco prima di ingresso in retta Candelario ancora in vantaggio su Ben Urcigi e Bulgari Griff poi Candy Febbi Candelario in vantaggio nella sua scia Ben Urcigi all'esterno cerca ancora di lottare con grinta Bulgari Griff mentre c'è l'errore diceva Lotto poi Candy Febbi e Carmen Fe nel finale Candelario in vantaggio ma sposta a Ben Urcigi Ben Urcigi rimonta Candelario e sul palo è Ben Urcigi che va a centrare la prima vittoria della carriera su Candelario mentre per il terzo probabilmente Carmen Fe stampa Bulgari Griff a fil di palo e allora potrebbe essere 5 11 10 la combinazione vincente di questa prima seconda tris di giornata la quarta corsa all'ippodromo delle Capanelle con Ben Urcigi che è andato facilmente al comando non si è opposto dopo 400 metri a Candelario ma in retta ha spostato sull'avversario negli ultimi 100 metri ne ha sfruttato il piccolo calo per rimontarlo e andare a cogliere la prima vittoria della carriera nelle mani di Warner Martellini il successo del figlio di Irvin Rivarco Candelario è secondo quello che vedete adanzitare per terzo sotto la quarta c'è Valotto ma è di galoppo già da parecchio tempo e vedete che allora Carmen Fe batte Bulgari Griff per il terzo e quindi vi confermo che dovrebbe essere 5 11 10 la combinazione vincente di questa seconda tris linea lo studio grazie a tutti grazie a tutti